Allora da poco si sono conclusi i voti per il gioco dell'anno 2011 che come sapete la maggior parte è stato eletto Skyrim o Skirim o quello che volete insomma del Dark Scroll 5 Ora volevo sapere da parte vostra quali sono i vostri 5 giochi preferiti del 2011 Potete inserire qualsiasi piattaforma, qualsiasi titolo eccetera eccetera Non sono bravo a fare i video come il buon Firenze Quindi potete scriverli, potete fare un video di risposta, potete fare quello che cavolo volete Basta che li mettete per intraprendere una discussione Quindi abbiamo il gioco dell'anno Skyrim eccetera eccetera Passo con i miei direttamente e velocemente senza perdermi ulteriori chiacchiere Allora al quinto posto metto un titolo che aspettavo da tanto, da tantissimi anni Anche se non è perfetto mi è piaciuto tantissimo Quindi al quinto posto metto questo Alice Maddeners Return Che è un gioco diciamo platform un po' folle che mi è piaciuto tantissimo Purple Station 3 l'ho preso Quinto posto per me Ok Passando velocemente al quarto posto Metto un titolo che praticamente per me Se c'erano dei difettucci in meno come delle meccaniche ancora di spartire il gioco Potrebbe essere di più classifica Comunque è un gioco che mi sta piacendo tantissimo e sono quasi alla fine C'è Zelda Skyward Sword Un bellissimo titolo che consiglio a tutti gli amanti della saga E anche a Wii Poi Mettiamo nel top 3 Free o 3 Mettiamo un gioco che praticamente è stato preso dei voti bassini secondo me Per quello che è Perché secondo me merita tantissimo in quanto diverte Come dice il buon vecchio Firenze Diverte tantissimo Ed in un gioco l'importante è quello Divertire Sarebbe Super Mario 3D Land Un gioco che ancora devo finire e che me lo sto godendo veramente piano piano E anche se ha dei piccoli difettucci è un gioco che mi sta divertendo all'inverosimile Ok Passiamo oltre Adesso mettiamo le prime due posizioni E sono state veramente dure sceglierle in questo 2011 Comunque Un gioco che mi è piaciuto tantissimo Che secondo me meritava il titolo di Godi 2011 E' stato questo Batman Arkham City Un titolo veramente eccezionale Basato Sono pochi titoli basati sui fumetti o sui film Che riescono a intraprendere questa Questa magnificenza Insomma anche se non vi piace Batman ve lo consiglio veramente Si è intravisto comunque il primo titolo che secondo me dove vince veramente il Godi E' lui Portal 2 Un gioco per me quasi perfetto Diverte E' spettacolare A dei gameplay, colonna sonora Un tramo volendo puzzle, fps, quello che volete A livelli eccezionali Ho preso la versione PC Comunque ho scaricato e questa copia la tengo chiusa Per collezione Comunque Questi sono i miei titoli Scusate che ho fatto il video sul letto ma devo andare Al lavoro praticamente Adesso vorrei sapere i vostri Quali sono E saluto a tutti Il forum di cui le frequento HV Upgrade Forum Aie Games Forum Spazio Games Che paraccia negli Oscar Ci stiamo divertendo tantissimo E saluto a tutti Quanti insomma Quelli del tubo Naturalmente i video che faccio Non sono divertenti Che non è Fare insomma un mito Naturalmente Però spero che Rispondiate in tanti Un salutone Ciao a tutti